Non ti consuma, sai che al limite ti faccio diventare senatore a vita? No, mai! Sai perché iniziamo così col senatore a vita? Perché è il premio che si dà a quelli... No, non la posso dire questa cosa! A quelli che lavorano male, aspetta, premiamoli, mandiamoli a Roma e andiamo a fare il senatore. Ma tu non puoi fare il senatore perché sei una battagliere. Io amo troppo la mia terra, devo rimanere qui. Ecco là ti volevo! Questo mi piace. Io mi ricordo quando tu eri un grande personaggio dell'MPA e facevi anche il commissario cittadino alla città di Palermo, dove facevi saltare dalle sede tutti quanti. Bravo, bravo! Non sei più nell'MPA, passi nel PDL, ma adesso la città vive in piena salute, i servizi sono quelli che sono. Il nostro sindaco di Palermo non fa assolutamente niente per farsi amare. Che schifo! Credo che Striscia la Notizia sia stata una trovata un po' particolare, in un momento un po' particolare. Mi stranizzano questi servizi che spuntano in un momento un po' critico, affondare il coltello. Il mio manifesto quando mi sono candidata era dalla parte dei più deboli. Quando tutti sono contro uno, non mi piace, non mi è mai piaciuto. E chi è il debole questo caso? Chi? Il debole chi è? Il sindaco? Se il sindaco viene attaccato da tutti, probabilmente unirsi al coro non mi piace. E quindi un attimo, voglio valutare in maniera diversa. Ma tu come la vedi la città? La città sicuramente vive un grosso momento di disagio, su questo non c'è dubbio. Tutale, è giusto? Ma è un problema che comunque potrei dire anche per la regione, perché purtroppo oggi che studio un po' meglio le carte della regione, vi devo dire che la regione non è messa tanto meglio. L'upe, 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 l'upe. L'adeguato controllo del territorio, la tragedia di Messina non è casuale. Ci sono tanti problemi, quindi voglio dire, per fortuna, anzi per sfortuna, i problemi ci sono da tutte le parti. Capirà? È la somma che fa il totale. Su Palermo credo che ci sia un'attività da fare, sicuramente bisogna mettersi tutti alla ricerca dei fondi, delle risorse, perché il problema reale è che ormai le risorse sono esigue. Ai comuni, sia grandi che ai piccoli, vengono trasferite poche risorse e questo è un dato di fatto. Abbiamo amministrato con accortezza e oggi questa accortezza sta pagando. Non dico bugia, ma finirà l'inferno. Se poi queste risorse qualcuno in qualche modo li fa, diciamolo pure, sparire, tipo caso Amia, 300 milioni di euro, che non si sa dove sono andati a finire, questo buco è insanabile. Ma anche con qualsiasi operazione che noi oggi vogliamo andare a fare, che riguardi l'aumento di una tassa X, ci servirà solamente per, uno, sanare il piccolo buchetto, restare nelle condizioni in cui siamo e il sindaco continuare a fare quello che è. Ci servirà anche per garantire il posto di lavoro a tanta gente che fa parte di questo... Vi salvate solo con questa cosa? No, purtroppo è una realtà. Io ho fatto sindacato per tanti anni, quindi per me questa diventa sempre una priorità. C'è tanta gente che in questo momento è preoccupata del proprio destino, siccome tanti impiegati dell'Amia si trovano lì, anche perché la politica li ha voluti, diciamocelo chiaramente, però è un problema che si è stratificato da amministrazione in amministrazione, per cui adesso andare a trovare i colpevoli non è facile, sicuramente non è il mio compito, per cui io dico va risanata. Io credo che lo Cicero stia facendo un lavoro discreto, perché sul piano industriale ci sta lavorando parecchio, bisognerebbe forse continuare in quest'ottica. Il buco c'è. Non possiamo non dirlo, è ovvio. Perché il sindaco non ha querelato in quel caso? Il presidente, potrebbe essere Galletto, potrebbe essere chiunque. Dico, perché non ha fatto questa operazione? È uomo di panza? Non mi costringa a dire la verità, io volevo tenere la gelata. No, non credo che sia questa la motivazione. Io credo che ci saranno delle motivazioni che, devo dire, non conosco. Io rispetto a questa vicenda non ho avuto modo di parlare con lui, quindi questa domanda dovremmo farla a lui. Io non lo so perché non l'abbia fatto, sicuramente. Perché lui non si lascerà intervistare a noi, dato che tu in questo momento ci sei vicino, diciamo, col gruppo del PBM. Ma io credo che probabilmente in questo momento i media abbiano magari un atteggiamento un po' aggressivo, e quindi ogni tanto è bene filtrare, magari attacchi, perché quello di Stiscia la notizia sicuramente non è stato un momento bellissimo e felice. Quindi questo bisognerebbe riprovare. Secondo me tu ci riesci, tu riesci in tutto, quindi anche in questo ci riuscirai. Hai pensato mai a convertirti? In che senso? Idealistico. Io sono abbastanza leale. Io sono abbastanza leale. Tu sei una potenza secondo me, no? Assolutamente no. Io dico di sì invece, sei una potenza non solo di voti, ma perché appunto hai un modo di fare politica che è diverso dagli altri. Perché non provi a fare una lista civica importante? Tanto il sindaco andrà via, tu lo sai questa cosa. Lista civica, in che senso per il Comune? Prepariamo una lista civica per il Comune. Io credo che per il Comune invece è quello che bisogna veramente fare. Non mandare il sindaco a casa. Al di là di questo, bisogna prevedere, non parliamo delle poltrone, parliamo dei programmi. Secondo me bisognerebbe prevedere, non è semplice, chi verrà dopo, quando finirà questa amministrazione. Avrà chiaramente una serie di problemi, e tuttora c'è una serie di problemi. Bisognerebbe trovare le soluzioni, il che non è semplice. Quindi secondo me dovremmo concentrarsi molto tutti, come rilanciare la città di Palermo, ma come cercare di risolvere i problemi e come rilanciarla. Perché a noi serve una boccata d'ossigeno in questo senso. Ci dovremmo credere un po' tutti. Io credo che, non voglio dire che la sofferenza è alle spalle, ma così come la ripresa nella sofferenza economica complessiva del Paese è lenta, ma si sta avviando, credo che anche a Palermo si stia muovendo qualcosa per ritornare a, diciamo, non solo ad accendere questo motore, ma a fargli cambiare velocità. Io credo che questo sia importante. Senti, tu credi a quel detto che si dice il pesce puzza dalla testa? Di solito funziona così. Grazie.